Nelle aree colpite dal terremoto è crollato del 15% il raccolto di grano a causa dell'effetto congiunto del maltempo e della riduzione dei terreni seminati. Male anche la produzione di latte, meno 20%, riduzione dovuta allo stress subito dagli animali ma soprattutto ai decessi a seguito dei crolli nelle stalle. A San Severino Marche, in provincia di Macerata, si è fatto il punto della situazione in un incontro a cui hanno partecipato centinaia di agricoltori provenienti da tutte le regioni colpite dal sisma. La giornata, come detto, è stata l'occasione per stilare un bilancio dei danni nelle campagne di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a dieci mesi dalle prime scosse che hanno distrutto case rurali, stalle, fienili, magazzini, laboratori di trasformazione e strade rurali, determinando al contempo lo spopolamento di interi paesi. Il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo, invita il governo a fare di più per il settore primario accelerando l'iter della ricostruzione. Dobbiamo accelerare la ricostruzione delle stalle e dei fienili danneggiati e dobbiamo al più presto riportare la popolazione nelle aree del terremoto per ricostruire il tessuto sociale e ridar vita al mercato locale delle produzioni che oggi ha subito un crollo del 90%. E poi aiutiamo la ripresa del turismo visitando le aree terremotate.